bella a tutti ragazzi sono Damirco ben tornati su gameplay channel e su crime simulator prologo allora ragazzi gli sviluppatori mi hanno mandato questo prologo di questo nuovo simulatore in uscita prossimamente su steam e devo dire che mi intripa un casino perché fondamentalmente il simulatore per l'appunto di criminale quindi noi saremo un criminale vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare puoi conservare oggetti pesanti va bene tra l'altro anche multiplayer è tutto in italiano quindi insomma tanta tanta roba allora questa è fondamentale una sandbox non lineare in cui diventi un criminale ruba picchia le persone e completa lavori per guadagnare denaro sei libero di fare tutto quello che vuoi ce la farei diventare miglior criminale in circolazione la versione vabbè ovviamente conterrà la storia il prologo è giusto l'introduzione al gioco quindi molto interessante devo dire allora questo è un aggiornamento ovviamente possiamo anche aggiornare la nostra casa perché vabbè noi adesso viviamo in questa catapecchia fondamentalmente quindi tiriamo via intanto un attimo ma è tutta spazzatura questa ma vivo nell'immondizia praticamente vabbè allora proviamo a tirar via un attimino tutte le varie cose che ci sono ok almeno ripulire dove dormiamo almeno questo vabbè poi per il resto siamo messi anche relativamente bene qua abbiamo anche il telefono ma pure il cestino era il cestino della spazzatura e spazzatura ok quindi tiriamo via tutto sta roba no va bene dai abbiamo dato più o meno una ripulita ma io adesso sta roba ah sì ce l'ho nell'inventario come faccio a buttarla ahia mi sono aperto la porta in faccia domanda come faccio a buttare la spazzatura nel ripara salva la partita ah ma dai possiamo anche riparare la macchina che figata controllo la cassetta della posta non c'è niente ah qua posso buttare la spazzatura ok abbiamo trovato dove buttare la pattumiera allora vendere oggetti spazzatura no vendi tutto vendi tutto vai 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 vabbè ci vendono la spazzatura cioè ci comprano la spazzatura quindi abbiamo fatto anche qualche qualche soldo abbiamo spazzatura anche qua quindi vendiamoci anche questa così almeno così almeno siamo a posto allora vediamo di qua cos'è che c'è di qua abbiamo anche una parte sul retro beh bella casetta però dai a parte l'immondizia che c'era dentro devo dire per il resto una bella casetta ah ovviamente potremmo anche poi avere diciamo da quello che ho visto dei video su steam la nostra coltivazione all'interno della casa coltivazione penso avete capito di cosa essendo una vita da criminale ovviamente non è di roselline e vabbè non me lo fate dire che sennò youtube mi blinda il video e anche tutto il canale quindi vendiamo anche questa così abbiamo fatto 36 dollarozzi e ok allora accetta e complete lavori va bene quindi andiamo un attimo al pc vediamo cosa c'è tonstool ok quindi abbiamo il grimaldello ah quindi ho proprio solo 26 dollari mazza mazza da baseball manganello tirapugni spray al peperoncino tubo bomba granata che causa non si sa che cosa scala semi di cannabis per appunto quello che possiamo seminare binocolo, benda, analgesici, kit, pillola, banco di lavoro o pillole dell'amnesia va bene noi controlliamo controlliamo la mail ecco qualcosa per iniziare bene il tuo nuovo percorso di vita in bocca al lupo con il tuo lavoro quindi riceverai 5 grimaldelli, una benda un pacchetto di suggerimenti, casa abbandonata e ara di costruzione vabbè questo lo possiamo raccogliere gratis ok poi vediamo quindi scelto la vita criminale lascia che ti introduca il tuo vicino Alex Jackson è uno ok totale scrive strane idiozie su internet qua ragazzo è un vero cretino ti risparmierò i dettagli ma crede in teoria complottiste assurde dagli una lezione che non dimenticherà mai ok spaccagli il culo finché non perde conoscenza punti bonus se riesci a farlo senza far rumore rubagli la radio vintage e quella dannata macchina fotografica ah ok quindi devo mettere K.O. Alex Jackson del 102 ruba la radio ruba la fotocamera sferra un attacco di nascosto ok vabbè accettiamo il lavoro dobbiamo andare a mena sto tizio insomma quindi niente di complicato così ci pariamo col destro col sinistro ovviamente tiriamo cazzotti e va bene quindi il nostro vicino ma è di qua o è di là aspetta questo cos'è che era il 102 sì credo sia questo mi posso abbassare ah sì gli facciamo un bel attacco furtivo occhio credo sia questo eh credo credo sia questo attacco furtivo quindi lo stendo maledetto lurido oh e vabbè ma devi morire però non gli sto facendo un cacchio ah ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta ma era lui credo che non fosse lui però intanto abbiamo preso il tubo di metallo spray al peperoncino drink supereroe una benda abbiamo trovato l'ira di dio ma era lui questo tizio scusami 102 non credo fosse lui però prendi rottami metallici vabbè io gli frego tutto intanto intanto vabbè l'abbiamo steso quindi ok ma questo dorme in una catapecchia peggio della mia no non c'è neanche la radio vintage non c'è neanche la macchina fotografica è un kit buono buono ho steso un altro tizio vabbè fa niente tanto doveva morì quindi tanto no prendi la sedia a rotelle cosa me ne faccio io la sedia a rotelle vabbè no non era lui è il 102 questo qua scusami scusa amico non l'ho fatto apposta non è vero vabbè comunque era minaccioso intanto abbiamo preso un bel tubo così ci siamo almeno rifatti un attimino e abbiamo qualche arma in più quindi direi che va benissimo uh abbiamo la scala perfetto quindi io metterei la scala che figata ma è bellissimo sto gioco ragazzi è fighissimo allora R arrampicati ok sta entrando in un'area riservata eh ma va lo so che sta entrando in un'area riservata però devo capire devo capire dove sta il tizio allora intanto la radio d'epoca ce l'abbiamo ok così questa l'abbiamo fatta posso vedere dentro casa qua non lo vedo ok tra l'altro dovrebbero essere gli stessi creatori anche di Tifa Simulator o di drug dealer mi sembra adesso non ricordo ma mi pare di sì allora la fotocamera è lì ma io vorrei capire dove è lui perché non vorrei che questo magari sta fuori e poi ci inchiappetta vabbè io intanto gli frego tutto ci sono soldi tubo di metallo già ce l'ho grazie nastro adesivo tessuto anche perché poi potremmo riparare migliorare anche le nostre armi il nostro equipaggiamento quindi tanta tanta roba ah posso anche entrare dalla finestra mi sa eh aspettate adesso ci provo ah non mi sembrava lui cacchio ok va bene allora secondo me posso entrare di qua ah eccolo qua ok quindi teoricamente io posso entrare io posso entrare dalla finestra mi abbasso e lo saccagno di botte eh però mi ha tirato un calcio stile karate kid eh ok è un po' splatteroso devo dire 50 dollari nastro adesivo corda eh ok ruba la fotocamera eh economica vabbè ti è ti è vaffan bagno ma posso rubare altro macchina del caffè oh sta roba poi me la rivendo eh questa è una nuova nota nel diario ok e poi vediamo che altro c'è che poi è bello perché dobbiamo fare anche missioni in cui possiamo spaccare tutto ti è vaffan ti spacco casa guarda ti spacco tutto posso spaccare il televisore no non credo no questo purtroppo no uh il tavolo si che figata gli abbiamo sfanculato il tavolo ok facciamo un po' di un po' di danni a casa sua che va sempre bene anche le finestre possiamo spaccare stiamo a fan casino stiamo a fan casino eh va bene possiamo anche sfondare le porte tra l'altro ma vabbè non credo che possiamo farlo col col tubo questo qua ma è questa no questo che cacchio è oh cacchio sta è ritornato in vita muori muori no 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 vieni qua vieni qua questo chiama la polizia porca la miseria via 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 che questo chiama chiama la polizia porca cia boia vai 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 ruba la macchina via via scappa fuori scappa fuori scappa fuori no cacchio e mo come faccio a rampicarmi maledetto lurido vieni qua vieni qua che ti sfondo di botte vieni qua porca misera vabbè tanto io me ne torno a casa ciao ciao ok io me ne torno a casa giovane poi se becchiamo dopo eh se becchiamo dopo ma non è che viene con i rinforzi sto lurido no in teoria no in teoria no quindi allora il lavoro l'ho fatto no ho dato un cazzotto al mio computer allora quindi ho concluso un affare un lavoro per te strano vabbè chi è ho sentito un rumore non è che quello che mi entra in casa aspetta chiudi la porta va chiudi la porta vabbè il compito in teoria l'ho fatto apprendista criminale ok c'è te complete il lavoro uno di otto ah sì quindi quello l'ho completato ma quindi tutta sta roba io la posso rivendere no 150 fantastico poi questa 200 assolutamente sì e 150 ci vendiamo tutto così ci siamo fatti un po' di un po' di soldini insomma un po' di soldini vabbè dai vediamo un'altra missione ragazzi ma è fighissimo sto gioco è fighissimo allora vediamo non letto allora non mandare tutto a puttane allora davide il 103 ok ha bisogno di una piccola lezione su come tenere la bocca chiusa su questioni che non lo riguardano rubagli il passaporto e mettere uno falso in camera da letto quello falso è nella tua cassetta alla posta non scordarti di prenderlo ok rovina gli immobili sì sì assolutamente la accettiamo mi piacciono queste cose ok allora quindi no beh che cacchio ancora che do cazzotti allora per cui io quasi quasi quanti soldi abbiamo 806 io quasi quasi bella questa no voglio la mazza assoluta ideale per distruggere rompe teste e porte ma è bellissimo sto gioco no vabbè che spettacolo che spettacolo c'è un mega martellozzo andiamoci di notte assolutamente sì quindi dobbiamo prendere il passaporto falso il passaporto falso dove aveva detto 103 sì quindi questo è il 102 103 sarà dopo di qua credo penso sia 103 ok 103 è questo perfetto all'altro lato della strada insomma il mio vicinato mi amerà tantissimo sto distruggendo casa tutti praticamente ma va bene anche perché teoricamente adesso che notte dovrebbero dormire penso chi è chi cacchio ma mi ha sgamato urco boia aspetta aspetta usciamo 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 ciao ciao zio diga 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 che vuoi che vuole da me c'ha qualcosa contro di me ma ce l'ha con me o no se ne sta andando ah ok quindi in realtà distruggi i mobili non farti vedere opzionale ah ok non mi devo far vedere quindi aspettiamo che se ne vada e mo gli entro in casa perfetto allora vediamo di qua se se c'è una scala o qualcosa per riuscire per riuscire a entrare mamma mia con la violenza con la violenza si entra dappertutto fantastico fantastico eh ma io non ho bisogno di scusami eh che 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 cos'è che cos'è allora spacchiamo i mobili dalla cucina ok perfetto così almeno uno di tre due di tre e tre di tre buona poi ti spacco tutto ti spacco no questo non si può rompere ok quindi gli abbiamo sfondato praticamente tutto analgesici me li prendo poi ah possiamo anche aprire i cassetti fighissima sta cosa eh no ok qua non c'è niente e dovrebbe essere qua teoricamente ma va a capire router te lo frego router te lo frego cuffie ok poi qua cos'è che c'è niente che mi interessi qua sotto tessuto ok passaporto ah nessun posto nell'inventario orco il cacchio aspetta aspe ho preso troppo vabbè acqua poi in a farci varie cose vabbè la butto che tanto non mi interessa quindi il passaporto lo prendo ok lascia un passaporto falso ma quindi il passaporto falso eh lascia ok eh lavoro completato va bene si me ne devo andare però me ne devo un attimo andare eh quindi usciamo qua dalla finestra che così passiamo dal retro almeno non ci vede non ci vede in teoria dovrei anche aver sbloccato l'obiettivo che non mi son fatto sgamare perché alla fine quello non m'ha visto eh io sto camminando tranquillo con un mega martello in mano però però vabbè a parte questo a parte questo diciamo che nessuno m'ha visto no orco il ca... no ho distrutto la cabina telefonica ma si può spaccare ma è bellissimo ma è bellissimo posso spaccare tutto la violenza la violenza che figata eh sotto comunque si abbiamo le nostre statistiche l'energia il rumore che ovviamente andiamo a causare ah scusami il diciamo quanto siamo visti dagli NPC e poi ovviamente la nostra salute ancora che me sbaglio tasto allora la cuffia la vendiamo che ci dà 80 passaporto 100 vabbè lo vendiamo e router 150 anche questo direi che ce lo vendiamo quindi un po' come su Tif Simulator comunque se riusciamo anche a rubare cosa a casa degli altri schifo non ci fa insomma schifo non ci fa soldi e richiesti ok ma io in realtà potrei anche aggiornare questo aggiorniamo la camera da letto dai che almeno oh là eh che cavolo almeno ci facciamo una cosa un attimino più caruccia abbiamo anche un deposito quindi posso lasciare qua magari le bende gli analgesici grimaldello no mi conviene portarlo questo lo lasciamo tutta sta roba qua che ho preso la legna non lo so magari ci servirà per per fare qualche cosa di crafting non lo so sinceramente non lo so vabbè io intanto salverei la partita eh va bene ragazzi allora qua ci sono comunque altri lavori eh che eventualmente si possono fare eh in questo prologo eh come detto ne abbiamo fatto un paio giusto per capire un attimino di io continuo continuo a sentire ma chi è che parlo io continuo a sentire voce il mio vicino di là che continua a rompere le palle chiudi la porta va eh dicevo eh quindi il prologo ci dà la possibilità comunque di fare un po' di lavori eh possiamo anche cambiarci l'aspetto quindi possiamo anche scegliere eh vari aspetti insomma più o meno eh cattivi no ma io mi terrei questo che è assolutamente fighissimo ce ne andiamo in giro tipo SWAT praticamente ma eh va bene così allora andiamo anche a dormire così facciamo fino eh alle sette di mattina dai va bene almeno recuperiamo un po' il tutto perfetto eh quindi ragazzi facciamo una cosa allora fatemi sapere ovviamente che cosa eh ne pensate di questo titolo qua possiamo non ve l'avevo fatto vedere perché in realtà l'ho scoperto adesso eh aumentare tutte le nostre statistiche infatti stavo pensando al fatto che eh non non avevamo ancora eh guardato il discorso skill e davo per scontato che ci fossero le skill quindi abbiamo i punti attributo abbiamo i perk quindi possiamo anche eh selezionare un perk aumenta le dimensioni dell'inventario ma devo avere più forza eh ovviamente abbiamo le armi da fuoco riduce i danni sì assolutamente sì impariamo questo che ci riduce i danni e poi qua abbiamo le eh statistiche quindi il nostro punteggio criminale la classifica eh criminale quindi adesso siamo ventiquattresimi eh la possibilità di un critico la nostra esperienza il tempo giocato vabbè soldi guadagnati e tutte queste cose qua quindi oggetti rubati lavori completati eh opzionali completati insomma combo perfette eccetera eccetera molto bello devo dire molto molto bello mi piace un sacco mi piace veramente un sacco eh per cui eventualmente fatemi sapere eh che cosa ne pensate eh volendo si possono fare altri lavori in questo prologo quindi se vi piace l'idea di guardare qualcosina in più eh di questo prologo intanto finché non esce ovviamente la versione definitiva molto volentieri eh ci facciamo un nuovo video di approfondimento detto questo ragazzi quindi io direi che posso concludere qua mi raccomando come sempre lasciate un sacco un sacco di like e condividete commentate iscrivete al canale se non siete iscritti andate a campanellina e notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti youtube oltre a se nocazza di sotto di ogni mio video detto questo giovenotti io vi ringrazio di sotto e ci vediamo nel prossimo gameplay ciao balli